Cari prese bene, è di nuovo Natale, quindi auguri a tutti. Quest'anno come video natalizio ho deciso di fare una piccola compilation con tutti i pezzi o più belli o più brutti dei vari video che durante l'anno per un motivo o per l'altro ho scartato e non ho caricato sul canale. Quindi mettetevi comodi e buona visione. Sono io! Mi assiste. È una madonna. Una strage, ho perso lo stesso. Sì, 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 l'ho scelta anche a me. Due coltellate a questo per ucciderlo. Mi è rimasto chiuso in mezzo alla porta. Io ho lo spas, farò dare strage. Sarà uno spas. E sono io. Io ho usato un secondo però. Sono persino morto. Ma che è tutto questo casino dietro di me? Non va il coltello, cosa non lo metti a fare se non... Ma vai affanculo. Mi si è bloccato. Hai fatto delle robe incredibili, incredibili. Ti sei smaterializzato nel pavimento. Pari. Ah sì, non l'ho mai visto. Ma con che riga... Ma allora, inizio. Sette. Oddio! Cos'era? Non lo vedo io. L'hai visto? Sì. Non lo vedo io. Oh, che derappato ho fatto col camion, col rimorchio, porco Giuda. Ma in linea d'aria cato 527 di ping. Mi sono cappottato. Distrutto tutto proprio. Hai 500 di ping. Eh, ho fatto un incidente paura. Ormai. Oh, qua era il punto di prima. Che senso è il punto di prima? Oh, mi era scappato inderapata. Mi rimorgo prima. Ah, ok. Ho patito anche questa, però me lo ricordavo. Non ho staccato il blocco. Che cazzo succede? Perché stai rotto l'andro burlando? Non lo so. Non lo so, non c'era nulla per cui poteva succedere. 그러니까 il blocco. Quando you're 20 feet tall and throwing lightning, then you'll release me. squadra nemica eliminata round 3 completato ultimo sopravvissuto diventi portale male eccellente danni collaterali squadra nemica eliminata due andati ottimo lavoro due mosse si stanno evolvendo pilota una dp una tripla uccisione puoi andarne fiero bloccalo e buttalo giù di sotto fagli il rompiguardia qua vai no non è caduto esatto è caduto attento dietro allora scusate è morto però è morto sfingendo vai top bella bella si mica l'ho scoppiato bellissima con te non è wow ma abbiamo vinto ora bisogna fare guarda guarda cosa stai facendo non fare gesti oh nel geyser è andata spento diciamo ma mi mette la scheda e tu la metti qua ditemi quando vai cioè non è ce n'è di tempo ah pensavo che era da fare a tempo io mi sono sbattuto di brutto a farla chiodissima no non è pensavo sono una di quelle cose e guarda quanti soldi e questa l'avanzi ma non mi che mi si mette davanti e non mi fa prendere perché non mi fa prendere perché non mi fa prendere attenzione la collezione all'oste è stata persa puttana il clero anche con me ma non ci posso credere avevamo finito la missione non ci voglio credere Cristo I don't want to do it 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 I don't want to do it